Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Amici di Insieme a Canestro, buonasera e benvenuti alla ventunesima puntata della nostra fortunata trasmissione che ha raggiunto ormai la quarta stagione. Vi ricordo potete seguirci in diretta sul canale 80 di Rossini TV che è visibile in tutta la regione Marche, sulla nostra pagina Facebook e in streaming, sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare e anche sul sito internet di Rossini TV. Come sempre un ringraziamento ai nostri fedeli sponsor Conad Montecchio e Macchini Ceramiche. Passo adesso a presentarvi gli ospiti. Come avete letto sul cartello che preannunciava la nostra trasmissione, questa sera abbiamo deciso di fare uno speciale tifosi, invitandone due nei nostri studi. Due che secondo noi sono rappresentativi del tifo bianco-rosso, magari su barricate diciamo un po' diverse, ma che secondo noi hanno rappresentato in questi anni la fedeltà dei tifosi pesaresi. E quindi benvenuto a Maurizio Crapanzano. Grazie Betta, ciao a tutti. In passato leader della curva per un decennio e adesso anche opinionista dei Senza Giacca, questo Marco Cadedu ci tiene e quindi lo diciamo. Niente proprio di meno. E benvenuto anche a Lorenzo Cortiglioni, presidente del Club Tonucci. Buonasera a tutti e grazie per il video. Benvenuti, adesso passo la parola a Marco Cadedu che questa sera sostituisce Giovanni Zidda, sarà lui ad indicarvi come mettervi in contatto con noi per porre domande, rispondere anche al contest che lanceremo fra poco e che mette in palio due biglietti per la partita contro Pistoia che vi ricordo si giocherà sabato 13 aprile, non domenica, è stato comunicato proprio oggi. Quindi chi risponderà per primo al contest vince i due biglietti. Vai Marco. Grazie Betta, grazie della presentazione. Questa sera in queste vesti da Marco Zidda o Giovanni Cadedu, quindi un po' ambigue diciamo. Comunque ben ritrovati a tutte le telespettatrici e tutti i telespettatori. Oggi sono in questa veste di sostituto della spalla di Betta che per tre stagioni comunque è stata anche mia spalla. Andiamo a bomba sul contest. Intanto vi ricordo il numero di WhatsApp per mettervi in contatto con noi, 370-366-7210, ovviamente anche attraverso la pagina Facebook. Si parla di Spareggio Salvezza di Milano, torniamo indietro negli anni 70, precisamente al 1979 e tutti ricordano quello contro la Supergamestre, ma la Scavolini l'anno prima ne vinse un altro contro la Canon Venezia. E vogliamo sapere il risultato di quella partita che fu disputata sul campo neutro di Bologna. Ovviamente chi risponde per primo si aggiudica i due biglietti in palio che la Betta ha da poco menzionato. Grazie Marco, voi siete forse troppo giovani per ricordarvi o per essere stati presenti, c'era qualcuno di voi nel 1979 a Bologna o nell'80 a Milano o eravate ancora troppo piccoli, non vi mandavano? Giovani non siamo, però nel 1979, no io sono in 72, quindi... Siamo da la stessa età, io Maurizio. Benissimo, nemmeno io purtroppo c'ero, a me, a Bologna ancora non seguivo la VL, cominciato proprio l'anno dopo con Joe Pace, però mi ricordo ancora i miei genitori non mi mandarono a Milano perché avevano paura, d'altronde è stata una trasferta con circa 4.000 pesaresi a seguito, c'è sempre la paura che possa succedere qualcosa. Ricordo ancora la mitica radiocronaca però che ascoltammo per sapere che la VL si era salvata, dopo ne parleremo alla fine ancora perché siamo proprio in argomento, no? In argomento salvezza. Conosciamo la partita perché le immagini storiche, il convinto storico gira ancora. Gira parecchio. E anche le foto del serpentone di Pullman che partì. Benissimo. Bene, allora purtroppo per noi siamo impellagati anche quest'anno nel discorso retrocessione e Maurizio faccio cominciare a te, onestamente dopo la straordinaria vittoria con la Virtus l'ambiente era molto carico, eravamo attesi da un'altra partita in casa, contavamo che fosse carica anche la squadra e invece ci siamo trovati davanti un gruppo stranamente morbido, incapace di reggere l'urto sin dai primi minuti e chiedo ad Andrea di mettere in onda le immagini della partita contro Reggio Emilia. Ecco tu come te la sei spiegata questa resa incondizionata contro Reggio? Guarda, sinceramente avere una fiducia in questa squadra senza remore è difficile perché parte il fatto che abbiamo vinto solamente sette partite in tutto il campionato, non abbiamo mai vinto due partite di seguito e quindi anche dopo una vittoria come quella contro la Virtus è difficile fidarsi di una squadra che comunque ha dimostrato il suo valore in campo e il campo disse sempre la verità. Certo più che altro è stata una sorpresa trovare una squadra così pronta contro la Virtus che sicuramente ci ha tra virgolette aiutato perché 48 ore prima, meno di 48 ore prima ha disputato la sua partita di Eurolega e poco dopo avrebbe disputato poi un'altra partita di Eurolega quindi ci siamo trovati in mezzo a una squadra probabilmente un pochino stanca fisicamente e mentalmente. Senza Daniel Hackett. Senza Daniel Hackett e ecco tanto per 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 dare un numero della partita e a un certo punto al secondo tempo quindi dopo qualche minuto del secondo tempo avevamo come statistica un 3 su 21 da 3 punti in un momento diverso dalla stagione una squadra come la Virtus l'avrebbe fatto pagare con 15 20 punti di svantaggio invece ci siamo trovati comunque punto a punto e pronti ad approfittare una debacle poi chiaramente. Quindi diciamo che c'è un po' illuso forse con la vittoria come ci aveva illuso quella di due settimane prima contro Brescia? Sì c'è illuso come dico il campo dice sempre la verità sicuramente è vero che abbiamo approfittato di un momento nel momento giusto per battere la Virtus è anche vero che ci abbiamo messo un furor agonistico che probabilmente in questa stagione non si era mai vista ed è questo che ci poteva far sperare che si potesse ripetere anche la partita dopo a Trento cosa che non è successa e quindi diciamo che questa è una squadra che contro Reggio Emilia doveva assolutamente come si dice in gergo sputtare sangue in campo e non l'ha fatto in modo clamoroso questo è stato sì una sorpresa perché non l'ha fatto in modo clamoroso e sangue si è venuto a noi agli occhi anche perché le percentuali di tiro sono state deficitarie anche contro la Virtus come dicevi però c'era un altro modo di combattere e invece quelle stesse percentuali che non ci hanno aiutato contro Reggio Emilia però la squadra aveva un'altra faccia. Certo aveva un'altra faccia aveva un'altra carica agonistica questo è abbastanza inspiegabile. L'unica spiegazione che mi sono dato ma questo è valsa per tutta la stagione è il fatto che la consapevolezza poi di non essere una squadra così competitiva poi ti scarica in modo tale da non riuscire a essere furioso in campo e consapevole dei propri limiti. Sono consapevoli dei loro limiti. Penso che sia quello non trovo un'altra un'altra spiegazione altrimenti si mettiamo a fare cose di etrologia o gossip che non è il caso. No assolutamente. Lorenzo ti faccio la stessa domanda anche perché vorrei anche capire poi che cosa vi dite anche tra voi tifosi no magari dopo la partita spesso si va a cena si discute si litiga qualche volta ecco di che cosa avete parlato quella sera dopo la partita e anche nei giorni seguenti per tanto a Pesaro non è che si esaurisce l'argomento la domenica sera ma si discute di basket per tutta la settimana. Ah niente dopo la partita siamo rimasti assolutamente molto delusi non ci aspettavamo assolutamente un atteggiamento della squadra di quel tipo perché non è la prima volta che la squadra scende in campo cerca di cerca gioca per due quarti e poi gli ultimi due quarti praticamente molla non riesce più a giocare ma è una questione come diceva Maurizio agonistica sembra che non hanno le facce giuste hanno il corpo anche il linguaggio del corpo è sbagliato hanno e quindi e quindi vengono assolutamente massacrati dalle altre squadre. Eppure all'intervallo eravamo a meno 9 e a meno 30 la partita era aperta ancora pur avendo giocato male però meno 9 ancora si può rimediare. Quello che lascia pensare anche fa pensare anche che alla fine del secondo quarto c'erano quattro americani che avevano sette punti anche quello lascia un pochettino pensare perché da tutto può essere che magari uno non è però un pochettino puoi segnare i canestri quando la partita è finita ecco questo parte degli americani non è che mi fa un pochettino riflettere serve a poco. Esatto serve a poco. Beh ma sai alcuni forse non riescono a segnare quando la marcatura è aggressiva quindi non è che fanno i punti perché magari a volte uno pensa segno per ingrassare il tabellino no segno quando gli avversari me lo concedono e spesso è quando la partita è già finita praticamente. Infatti dobbiamo dire che noi a volte cerchiamo delle risposte così complicate andiamo ad approfondire cose che poi magari sono più semplici da capire cioè la squadra ha dei limiti tecnici molto molto grossi è chiaro che se poi a questi limiti tecnici c'è un connubio di cose e quindi anche il furore agonistico non c'è non c'è il carattere non c'è l'aggressività e non hanno dentro di sé queste doti perché anche queste sono doti da mettere in campo qualcuno ce l'ha e non ce l'ha è difficile può venirne fuori. Quello che chiedono i tifosi è che la squadra si impegni sempre al massimo questo che credo che un pochettino i tifosi sempre dall'inizio dal primo minuto al quarantesimo minuto non è possibile vedere la cosa del genere. Forse i tifosi sono in questo abbastanza sensibili ma a un certo punto Sacchetti ha detto una cosa che secondo me era vera ha detto io sono stato un giocatore e so quando un giocatore sta dando il 100% o non lo sta dando e io credo che questo lo percepiscano anche i tifosi magari in un'altra maniera da un allenatore però penso che voi lo sentiate sì sì sicuramente lo sentiamo vediamo appunto il giocatore che magari qualche volta non torna neanche in difesa non si butta sul pallone non va bene non va bene cioè perdere ci sta perché comunque abbiamo dei limiti questo è indiscutibile però bisogna lottare sui palloni in ogni azione e bisogna cercare di stare in partita non si può prendere non si possono prendere 20 punti 30 punti come spesso accade purtroppo quest'anno è stata una costante quindi anche voi penso che avete sopportato delle serate in cui veniva voglia di andare a casa a un certo punto è difficile rimanere lì vediamo poi ogni tanto qualche persona del pubblico andare via ma sono meno i meno fedeli perché diciamo che quelli che veramente ci tengono a novella rimangono fino alla fine a vedere la partita pur soffrendo è stato difficile rimanere a palazzo siete stati bravi anche in curva perché avete continuato a tifare i fischi sono arrivati direi anche tutto sommato veramente pochi c'era quasi un senso di rassegnazione la rassegnazione è un sentimento che quest'anno va per la maggiore perché appunto ci sono state tante le partite in cui abbiamo dimostrato di non essere all'altezza abbiamo preso tante imbarcate anche in casa e quindi fai fatica sia ad aver fiducia sia comunque a sperare in qualcosa di diverso che ripeto esiste esistono dei valori esiste una classifica che rispecchia i valori in campo e esiste un atteggiamento che domenica scorsa doveva essere un atteggiamento da dentro fuori da finale questo ci aspettavamo no? e quindi è incredibile poi per tutta la settimana l'ambiente io dico allora se la squadra fosse venuta da una brutta sconfitta e magari sapeva che è il palazzo l'aspettava no? al pubblico un po' così con le unghiette fuori ma venivamo da una vittoria eccezionale l'ambiente era super entusiasta 6200 persone seconda partita consecutiva in casa ci sono tutte le condizioni per fare un partitone evidentemente quando fisicamente non sei competitivo hai detto una parola importante fisicamente diciamo che l'errore più grosso è stato nella costruzione della squadra una squadra poco fisica poco atletica questo mi ha un po' sorpreso perché oggi il basket è di una fisicità prepotente gli avversari hanno tutti una fisicità prepotente e tu secondo me devi cominciare a costruire una squadra pensando non dico soprattutto a quello ma non può mancare questa fisicità in tutti i ruoli certo certo può capitare che possa mancare in un ruolo che poi magari viene ovviata da una tecnica superlativa ma se tu sei mancante fisicamente in tutti i ruoli noi questo lo siamo dall'inizio ed è così abbiamo pagato questo soprattutto secondo me Allora Andrea se ci puoi trasmettere la classifica sullo schermo la classifica ha sei giornate dalla fine penultimi con quattro punti da recuperare su Treviso sinceramente ci credete ancora alla salvezza ragazzi oppure no? Allora diciamo che la classifica è molto brutta tenendo in considerazione che abbiamo su sei partite che rimangono ne abbiamo due in casa e quattro in trasferta le due in casa sono fattibili perché giochiamo contro Pistoia e Cremona ma le quattro in trasferta non sono facili chiaramente sappiamo tutti i domenici sabato andiamo a Treviso il spareggio che va alle quattro punti le altre tre giochiamo contro le squadre che giocano per i primi autoposti Tortona, Venezia e Sassari insomma sono partite difficili nulla è impossibile nel basket abbiamo visto tutti i colori quindi io finché non c'è la matematica certezza di retrocedere io ci credo e ci devono credere soprattutto i giocatori perché se ci credo io conto non conto niente il problema è proprio quello arrivati a sei giornate alla fine e guardando questa classifica è difficile pensare di poter rispondere sì crediamo alla salvezza ma oltretutto oltre che farsi adesso una classifica deficitaria è proprio questo atteggiamento che hanno i giocatori in campo che fai fatica tu a credere che possano svoltare la stagione adesso ripeto la partita di domenica era da svolta chiaramente Reggio Emilia è più forte ma l'abbiamo aspettato a lungo questa svolta però non è mai arrivata abbiamo sperato quando la squadra ha vinto a Milano per esempio l'abbiamo sperato quando la squadra ha vinto a Pistoia con l'arrivo di Cincia ma tutte le volte però la domenica dopo la squadra faceva di nuovo due passi indietro certo perché poi quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato prima vengono fuori evidentemente anche quella emotiva è una caratteristica che o hai o non hai poi se ci sono altre motivazioni che non legano il gruppo talmente tanto da poter combattere insieme questo non lo sappiamo noi vediamo quello che succede in campo la differenza tra quello che sta succedendo quest'anno e quello che è successo gli anni passati quando ci siamo salvati all'ultimissimo momento a prescindere dal fatto che poi ne scendeva una sola e noi siamo spesso arrivati penultimi però queste erano le regole e ci siamo salvati però le ultime giornate si notava una compattezza di tutto l'ambiente dirigenziale, giocatori, allenatore c'era proprio una compattezza di gruppo che insomma gli faceva scendere in campo in un certo modo che quest'anno non è così non è così anche insomma le parole di Sacchetti alla fine sono pesanti e questo denota sono d'accordo il gruppo diciamo che sembra che non sia particolarmente unito sembra, sembra a vederlo così in campo quindi anche quello si vede, si nota si nota e non aiuta come diceva Maurizio gli anni passati nonostante avessimo in questo decennio di sofferenze nonostante avessimo delle squadre molto anche a volte più scarse abbiamo avuto però ci siamo salvati non eravamo gruppi italiani veramente non eravamo più forti di altre squadre però ci siamo salvati lo stesso avevamo dei giocatori che innominabili in squadra adesso non voglio fare niente però non facciamo i nomi però lo sappiamo tutti abbiamo avuto dei ragazzi volenterosi per lo meno però bravissimi però valevano magari più di altri giocatori davano tutto avevano fatto gruppo tutto quanto e alla fine ci siamo salvati miracolosamente a volte per carità ci vuole anche quello però c'era un gruppo e quello vuol dire sicuramente anche quello incide allora Marco sentiamo se da casa hanno già delle domande o vogliono partecipare alla discussione vogliono dire da loro guarda è uno tsunami uno tsunami io partirei dando spazio a una tifosa che ti ha subito salutato all'inizio Patrizia Patrignani sta scrivendo moltissimo io direi di darle spazio intanto chiede a crappa di dire tutto quello che pensa poi lo sta già facendo Patrizia allora adesso voglio rispondere siccome tutte le volte arriva questo messaggio Patrizia noi non ci siamo mai nascosti diciamo quello che pensiamo se tu sei convinto di essere nella nostra testa e sapere cosa non abbiamo detto ti prego di dircelo ma sappi che noi fino adesso abbiamo manifestato il nostro pensiero e così penso che stiano facendo sia a crappa che a lorino esatto poi lei però insiste dicendo perché non parlate mai della società certo con 6.000 spettatori non è questo quello che ci meritiamo esiste una dignità un amore per la maglia per la città e è possibile che non ci siamo accorti che a questi non gliene frega niente quindi commentiamo questi giocatori chi sono questi questi giocatori o questi dirigenti io penso dirigenti adesso chiediamo a Patrizia di spiegarcelo ok ma io posso rispondere in questo modo intanto rispondiamo adesso a questo perché ci viene posta adesso questa domanda e se fatta questa considerazione sicuramente noi tifosi ci domandiamo quale motivo spinga la società composta dal consorzio a intraprendere un viaggio come quello di una società storica ad un pubblico che ha una tradizione come pochi in Italia e in Europa perché in Europa se andiamo in alcune in alcune zone parti europee a livello a livello cestistico ci ricordano assolutamente conoscono benissimo la nostra tradizione e associano il nome di Pesaro alla pallacanestro e quindi quello che ci chiediamo noi questi consorziati hanno hanno una passione sportiva hanno qualcosa che gli spinge sportivamente ad andare avanti o è o è o non è così o è solo altro ci sono altre dinamiche che non stiamo qui a così a a a sviscerare però quello che pare a noi che il discorso sportivo quando poi si parla di mercato c'è da fare un un aggiustamento di mercato sembra che ecco questo interessa un po' poco questo 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 solo chiediamo poi bisogna vedere quali regole esistono e per quello che Franco Arceci da presidente ha anticipato che probabilmente cambieranno lo statuto a fine stagione proprio per poter intervenire in maniera più celere perché evidentemente quando è stato steso e ricordo il consorzio è stato fondato nel 2005 quando la VL è fallita dalla famiglia Scavolini-Vellucci che si sono messi insieme con la Scavolini-Spar ne parlavamo prima della trasmissione e da lì sono stati messi insieme alcuni imprenditori per provare a sostenere la società e a risalire questo consorzio poi da lì è andato avanti adesso ci sono stati dei momenti più felici in cui erano in tanti altri in cui erano rimasti in pochi e quei pochi vanno ringraziati perché non se ne sono andati perché altrimenti avevamo chiuso baracche e burattini adesso però che sono tanti sinceramente sarebbe bello se ognuno di loro potesse fare un piccolo passo in più io dico sempre che tocca sempre ringraziare tutti i consorzati chi investe i soldi però c'è sempre quel però però bisognerebbe cambiare appunto le regole come le stiamo forse provando a cambiare adesso tutti si chiedono perché i consorziati mettano solo una certa cifra perché non possono mettere qualcosina in più adesso non parlo di cifre perché qui ci sono due fasce sappiamo che sì sapete che ci sono due fasce la prima è necessaria per poter entrare ed è una cifra base diciamo abbastanza bassa la seconda è quasi il doppio però sappiamo che sono pochi la vogliamo raddoppiare voglio dire raddoppiare sta cifra sì o no io non lo so costa molto raddoppiare sta cifra se tutti mettessero la cifra doppia noi avremo ben altro budget esatto però non so se tutte le aziende che fanno parte dei consorzi se lo possono permettere per carità allora appunto perché dentro abbiamo selci ma ci abbiamo anche adesso non ci siamo però aziende più piccoline insomma io penso che come dicevo prima il sentimento la parte la parte sportiva di tutto il meccanismo probabilmente posso lasciare un po' a desiderare è un elemento basilare per per muoversi probabilmente in un altro modo io ti dico la verità abbiamo abbiamo vissuto tre anni diversi da quelli precedenti abbiamo visto due playoff due fanalite sinceramente io una stagione è un mercato come questo non me l'aspettavo pensavo poi chiaramente noi tifosi sappiamo che un risultato può arrivare può non arrivare una partita si può vincere o meno una stagione può andare in un modo in una direzione o in un'altra però sinceramente quando tu in estate ti muovi in questo modo fai fatica poi a ottenere risultati e anche questa parola budget io beta sinceramente certo le classifiche sono condizionate dal budget di una società quello che tu puoi mettere in tavola ma non è solo questo certo anche con budget inferiori abbiamo comunque preso degli americani in passato si ma sai che adesso tutti guardano a Pistoia no? tra l'altro oggi hanno dato la notizia che entra un gruppo americano a Pistoia quindi molti si chiedono ma come mai entrano a Pistoia che ha per carità una città di medio livello come la nostra con un bel palazzetto però insomma niente di paragonabile a nostra vitrifrigorena la media pubblico non è paragonabile la tradizione la storia quello che abbiamo vinto non è paragonabile perché un gruppo statunitense entra a Pistoia e non entra a Pesaro suono un po' strano questo è più che strano la quale non lo so sono stati bravi magari una conoscenza un'amicizia difficile oppure adesso dobbiamo aspettare però l'attendibilità cioè l'ufficialità di questa cosa perché effettivamente non è ancora ufficiale però sembra se dovesse essere vera una cosa insomma io mi rimango sempre tipo Tortona c'è il presidente che c'ha un sacco di soldi io c'ho sempre questo incubo qui Tortona che c'ha due tifosi che c'ha un presidente che ha un sacco di soldi che è l'amoroso anche perché poveri devono andarsi a vedere a Casale Monferrato tutte le volte capisco che sia allontano le storie arrivano gli americani capisco Milano che c'ha armani ma ragazzi sono piazze come come quella di Scafati per esempio che è un pubblico numerosissimo però un presidente di Foso una palestra infatti allora poi dopo andiamo avanti con le domande altrimenti se a ogni domanda rispondiamo con un quarto d'ora non riusciamo a dare spazio a tutti però scusate questo ci ha un po' appassionato questa domanda perché è quello poi da cui nasce un po' la storia di ogni stagione cioè quello che si riesce a mettere sul piatto onestamente quest'estate o era poco o non è stato investito bene o sono state sbagliate le top perché bisogna dire anche quello negli anni scorsi questo va reso merito alla società magari aveva fatto degli errori dopo però aveva sempre rimediato bene guarda caso quest'anno abbiamo fatto un mercato abbiamo aggiustato il mercato ma non abbiamo alzato la striscella fisica per esempio che secondo me è stato un errore grandissimo poi dopo di questo abbiamo già parlato si è scelto Sacchetti che gioca un certo tipo di basket e gli hai dovuto prendere due giocatori come McDuffie e Foreman altrimenti il suo basket non lo poteva giocare ora lo giochiamo ma se si incontrano due pugili un peso massimo con un peso gallo fai fatica siamo piccolini io dico che la famosa asse play pivot noi siamo partiti quest'anno ecco se avevamo abbiamo sbagliato a deluso diciamo non era veramente un play McCallum è pivot non è non voglio neanche parlare del pivot non voglio neanche parlare di Shilling perché veramente era infortunato tutto quello che è per loro abbiamo iniziato la stagione con un play che era più guardia e che poi alla fine si è dimostrato non all'altezza purtroppo per il suo ruolo magari come guardia avrebbe giocato anche bene diciamo che anche ad ali alla piccola alla fronte l'asse play pivot quella storica quella più fondamentale dopo gli ali lasciamo stare gli ali sono le conosciamo perché le conosciamo bene eppure qualche partita l'hanno fatta però sono giocatori casuale qualcosa faranno ogni tanto scappa fuori sinceramente per esempio a me Blue Yet contro Brescia mi è piaciuto un sacco Ford ha fatto una partita a Milano lui ha le mani buone però quando un giocatore fa delle cose vuol dire che ha le potenzialità per farle ma se lo fai una volta in quattro mesi probabilmente c'è qualche altro difetto di fabbricazione diciamo non c'è la conti il livello non è per usare un eufemismo esatto Marco sì bisogna che rispondiate con più succinti perché altrimenti adesso andiamo più veloci ok sì vai allora a proposito di budget buonasera sono Claudio il budget quest'anno era inferiore all'anno scorso giusto per capire come siano stati fatti gli acquisti degli stranieri poi con l'infortunio di Totè società ancorata non abbiamo trovato un sostituto quanto vogliamo aspettare viene da pensare che già ci siamo rassegnati alla serie A2 allora io veramente stasera uscendo dalla redazione avevo notizie di un americano in arrivo quindi purtroppo ovviamente non puoi giocare a Treviso se così poi sarà confermato perché i tesseramenti sono scaduti oggi alle 11 giocando sabato era un po' difficile prendere un giocatore Totè ha finito gli esami tra lunedì e martedì quindi insomma veramente 48 ore erano poche si è tentato c'è stato che io sappia un abboccamento con Marcos Delia all'argentino che tra l'altro abbiamo già tentato di prendere che è un buon giocatore che è a Udine che è stato virtualmente tagliato perché al posto suo hanno preso Cannon però la sfortuna perché quest'anno veramente non ne va una dritta è che l'altro americano di Udine che è una guardia si è rotto e quindi Delia è stato fermato come ai tempi nostri diciamo che le fortune te le devi anche un po' sì certo però lui virtualmente era libero invece la società di Udine l'ha trattenuto perché lo fa giocare adesso hanno due lunghi perché la guardia è momentaneamente infortunata quindi magari tra due settimane è libero ma forse a noi non servirà più io non voglio dire che i buoi sono già scappati perché la matematica poi insomma qui siamo i tifosi siamo degli agonisti cioè noi siamo quelli che non vogliamo veramente mai quindi però è un po' tardi io però capisco io capisco la società allora secondo me molto dipenderà dal risultato di Treviso se vinci è giusto prendere un altro giocatore secondo me perché ci sono ancora cinque partite e tu vai a meno due da Treviso col 2-0 allora devi prenderlo perché tu te signori un giocatore un mese fuori che poi la sfortuna vuole che fosse il giocatore fisicamente che tiene più botta no? sulla questione del budget volevo dire a Claudio che molto ha inciso in questa stagione almeno questo è quello che ci hanno detto poi io non è che ho accesso ai libri contabili della VL però forse si potrebbe se uno chiede credo che si possano vedere se avete questa curiosità potete farlo credo gli italiani che avevano firmato tutti un biennale cosa una eccezione rispetto agli anni scorsi avevano tutti il contratto a crescere ed è anche per questo motivo credo che non si è riuscito a trattenere Moretti quindi hanno inciso molto sul budget di quest'anno quindi una volta che hanno preso McCallum e Banford che sono i primi ad aver firmato e costavano parecchio per gli altri tre è rimasto le brisole e si è visto? e si vede sbagliando sbagliando completamente anche anche i due anche l'acquisto i due più forti di McCallum e Banford perché McCallum a memoria quarantennale come dicevo io non ricordo un play americano così lento verticalmente orizzontalmente e Banford delusione Banford è a fine carriera diciamo è però e ha il tiro un grandissimo tiro ancora però fa fatica è in dubbio che fa fatica e paghiamo quando c'ha sempre una difesa fisica d'orso e purtroppo spesso e volentieri questo grandissimo tiro l'ha lasciato al campetto perché purtroppo mettiamoci anche quello infatti sicuramente con l'arrivo di Foreman avrebbe dovuto avere più spazio non ha non ha più canessi quindi su 20 da 3 possiamo dire la nostra altre armi non le abbiamo questo è il problema poi adesso ancora di più è stato te è solo il tiro adesso sono quello altre domande? sì interviene Michael avrei una domanda per gli ospiti come mai secondo voi la società non ha mai messo in discussione Ford e Blue yet a mia memoria le ali più scarse ed apatiche d'Europa loro assieme a chi li ha scelti hanno una grande colpa di questa retrocessione sì sì sono d'accordo nel senso il livello delle ali non è non è da serie a 1 secondo me devo dire che io aspetto sempre chiaramente di vedere giocare quindi che cominci una stagione poi come dicevo mi ha stupito il fatto che già gli anni scorsi abbiamo pagato fisicamente rispetto agli altri agli avversari e mi aspettavo quest'anno di vedere per esempio un'ala grande di quelle fisicate fisicate a sto punto i giocatori vanno a peso nel senso che più peso non piacciono i muscoli forse l'unico che è fisicato il problema è che non gli usa questi muscoli questi chili non li sa usare non li uso e quindi comunque in generale il livello delle ali è molto bassi la mia risposta è perché non li hanno tagliati perché forse tutti non li potevamo cambiare c'era una questione sia economica che divisi hanno cominciato tagliando play e pivot e dopo tutti forse era complicato proprio dal punto di vista il peccato originale come dicevo è stato il mercato estivo in toto a volte viene da pensare a volte no perché fa però a volte si insiste a far giocare questi giocatori anche questo è un peccato un altro peccato magari si potrebbe far giocare qualcun altro vabbè che c'è che sta un pochettino più in panchina va bene diciamo che le carte sono state mischiate abbastanza sono state mischiate per capire che però non è che iniziamo però è successivamente qualcuno sta sono mancate forse sono un po' di gerarchie dopo però così a forza di fare capito per i giocatori si è andati un po' in confusione hanno pesato hanno pesato molto anche questo ha pesato per me quando cominciano ad andare via dei giocatori non uno ma due tre chiaramente gli altri qualche domanda se la fanno poi insomma ripeto i valori il campo dice la verità Marco un'altra domanda poi dopo apriamo un altro capitolo sì più che altro sono interventi che sollecitano un po' l'opinione dei nostri ospiti sulla società il problema è che anche in A2 con queste teste si rischiano figuracce premio italiani due partite in casa di playoff si parlava di incassi di cifre a sei numeri per partita dove sono andati a finire per l'anno prossimo qual è il cambio più essenziale che necessitiamo a livello societario il direttore sportivo o gli sponsor che agonia siamo allo sbando società allenatore uno zombie anche l'inferno che non hanno il coraggio per fare una contestazione meglio un fallimento del consorzio e i dirigenti che finavano fatto sono spariti tutti in trasmissione vengono solamente quando le cose vanno bene e mi fermo io diciamo da dove partiamo? secondo me è impossibile rispondere a tutto diciamo che abbiamo dato e mi sono fermato abbiamo dato la possibilità di esprimersi ai tifosi però onestamente noi rispondere a queste domande mi sembra complicato io per quanto mi riguarda dico secondo me mi piace la domanda di quale figura abbiamo bisogno secondo me c'è bisogno di un tra virgolette general manager che non c'è cioè nel senso la società ha un direttore sportivo Cioppi è un presidente Costa ma non ha più la figura di collegamento quella per intenderci che ai tempi dello scudetto così facciamo i paragoni e ci capiamo era Santi Puglisi per esempio Massimo Cosmelli faceva gli acquisti il presidente era Valde Scavolini e che faceva tutt'altro e Santi Puglisi dirigeva la società questo è quello che avrebbe dovuto fare Ario cioè fare il direttore generale della società e lasciare il ruolo di presidente dopo però nell'estate in cui Del Moro se ne andò adesso così giusto per fare un po' di storia ad Ario chiesero di fare di ricoprire entrambi i ruoli in realtà se uno fa il direttore generale poi fare il presidente cioè fare il presidente vuol dire anche essere un ruolo istituzionale magari che vuol dire parlare con la gente e andare rappresentativo rappresentare la società nei posti cioè ecco essere una figura anche che non per forza deve stare in ufficio tutti i giorni a fare i conti o a scegliere gli americani eccetera secondo me alla società manca un altro pezzo che varrebbe la pena poi non so se rimarranno le persone che ci sono oggi o no Ario comunque ha detto che a fine anno se ne va e vediamo adesso se se lo troviamo intanto un'altra persona che risposta a prendersi perché non è nemmeno facile stare su quella poltrona è vero che magari molti dicono ah non vuole lasciare la poltrona però stare lì non è facile perché avere migliaia di persone che vogliono dirti la loro è chiaro che questa è una società che dal 2013 non può essersi attirata alle simpatie della gente perché tu quando con certe dinamiche vinci 7 6 8 9 partite l'anno come abbiamo fatto noi per 8-9 anni c'è stato un anno ne abbiamo vinte 13 un anno ne abbiamo vinta una un anno ne abbiamo vinta una con certe dinamiche chiaramente poi di mercato di soldi di liquidità sul piatto per poter essere competitivi cioè è normale che la gente è furiosa è normale anche che ci stanno dei cambiamenti tutto quello che ha detto Marco è normale che sia così non possiamo essere contenti perché poi di contraltare cosa c'è c'è la tradizione la passione i numeri del pubblico esatto adesso apriamo questa pagina allora un attimo perché secondo me è giusto anche io vi ho chiamato anche proprio perché è giusto un riconoscimento nei confronti di questa passione vorrei chiedere ad Andrea se ha delle foto ecco della curva ma non solo della curva perché siamo adesso vi leggo queste brevi cifre siamo il terzo pubblico della serie A dietro Armani e Segafredo con una densità della popolazione nettamente inferiore gli ultimi dati Istat che sono del novembre 2023 dicono che Milano ha 1.352.000 abitanti Bologna 389.850 Pesaro 95.291 abbiamo palazzetti simili per capienza l'Olimpia porta 9.121 spettatori di media la Virtus 6.024 l'AVL 5.151 dati Eurosport del gennaio 2024 cioè adesso come commentare questi numeri ragazzi sono numeri che che innanzitutto sono numeri ufficiali che evidenziano che siamo il terzo pubblico in Italia c'è la passione a Pesaro c'è la passione viscerale la gente orgogliosa della squadra si identifica nella squadra la vuole vedere la sente la sente dentro fondamentalmente per me è la passione che ha il pubblico pesarese e non solo il pubblico pesarese perché comunque la squadra c'è anche diciamo l'entroterra e anche addirittura le regioni vicine perché comunque quando ci sono partiti di interesse la Serie A nella nostra zona praticamente Pesaro è l'unica piazza dove puoi vedere il basket ad alto livello io la penso solo così è la grande passione che la gente di Pesaro tifosi di Pesaro lo sanno per il basket quando le cose vanno bene e anche quando le cose vanno male perché noi ci esaltiamo anche nelle stagioni negative perché poi anche uno scontro salvezza noi ci esaltiamo per tutto beh in questi anni ci sono stati scontri salvezzi ci sono stati molto bellissimi il più bello è stato quello con Caserta chiaramente parliamo di anni mediocri ma con delle emozioni fantastici perché l'importante per i tifosi è provare delle emozioni se non puoi vincere lo scudetto certo l'emozione è stata arrivare a undicesimo forse non è molto emozionante per cui o riesci a fare i playoff come su o le final eight oppure nel caso degli anni della salvezza perché avete fatto invasione di campo perché comunque in quel momento la gioia era tanta uno sfogo come diciamo sempre ormai meritiamo di più è quella una frase giustissima però ecco non so quanto tempo abbiamo per parlare della gente di Pesaro che è fantastica dici perché secondo te c'è questa passione da dove nasce beh vabbè la nostra è una tradizione storica la cosa bella la cosa bella è che tu vedi generazioni diverse tutte le generazioni che stanno insieme si tramandano veramente un qualcosa un sentimento bellissimo cioè tu vedi oggi dei ragazzi ragazzini 16 anni ragazzi di 20 anni che cosa avranno visto in questi 10 anni poca roba ecco ma li vedi hanno questa passione che viscerà perché qualcuno gli ha raccontato però no si dice pure di padre in figlio io sono convinto che voi conoscono i personaggi che fanno parte che hanno fatto parte dell'ambiente viene tramandato da nonno padre e figlio noi recentemente abbiamo fatto un aperitivo sono con la squadra e c'erano volevo solo dire che sono molte famiglie mi ha fatto piacere che sono molte famiglie con i bambini piccoli perché si vede che comunque la passione poi nasce anche così i genitori che portano i bambini piccoli è bello vedere anche questo conosci il giocatore se hai un ricambio generazionale che comunque a Pesaro ci sarà sempre per il basket avevate paura di questo Maurizio mi ricordo che c'è stato un periodo in cui si diceva che mancava una fascia al palazzo quella dai 20 ai 30 mi pare che si è tornata è tornata clamorosamente poi se devo fare un accenno alla curva che poi comunque il motore che spinge la passione che si sente visceralmente dentro il palazzo e sai avere una curva mezza vuota o poco frequentata insomma poi insomma in un'astronave come la nostra cambia di parecchio la temperatura del palazzo è bellissimo vedere tutte queste generazioni comunque una curva piena numerosa che insieme lottano per per un obiettivo e così è stato bello perché anche domenica cioè fino alla fine sempre come dicevi tu giustamente sono sempre stati i cori fino alla fine c'è stato sempre e pensare che quest'anno noi abbiamo addirittura il più 5,4% cioè il pubblico a Pesaro quest'anno è addirittura più numeroso in un'annata meno soddisfacente se avessero aperto il terzo anello anche gli anni precedenti avremmo fatto sempre 7.000 sì anche questa cosa è veramente una cosa poi rispondendo la persona che è un accenno che prima diceva perché la curva non contesta semplicemente è stata fatta una scelta io ripeto non faccio mi faccio portavoce della curva ma è stata fatta la scelta di spingere spingere poi chiaramente si rimane tutti a bocca aperta dopo la partita di domenica però si cerca di spingere è una scelta che si porta si porta avanti ma avete attraverso ci sarete i ragazzi saranno un centinaio anche il club tonucci io personalmente ci andrò ma conosco altre persone del club che andranno con la macchina macchina propria speriamo di trovare posto devo dire che ci sono questo non so dove a dimenticare ci sono molti tifosi non solamente in provincia o nelle regioni limitrofe anche nelle regioni ci sono tifosi della VL in tutta Italia io ho contatti con tifosi romani fiorentini lombardi io quando sono a Reggio Calabria c'è stata una macchinata da Palermo i tifosi è incredibile sapere che abbiamo tifosi è perché la tradizione della storia porta a questo io ho fatto adesso un esempio ma veramente siamo dappertutto non so mi sono distratto un attimo Andrea se hai mandato la foto di Renato Tonucci volevo un attimo spendere un minuto su ecco perché si chiama Club Tonucci magari molti ragazzi non lo sanno Lorenzo questo è Renato è un club storico che è nato 40 anni fa 40 anni fa e l'ha fondato proprio lui Renato Tonucci che era un personaggio che solo dalla foto si capisce che personaggio era Buffon una persona squisita ed era caratteristico per questi baffoni che poi tutti sanno ma non tutti forse giovani sanno si ritagliò in occasione promise di tagliarseli in occasione del primo scudetto gli ritagliò Beppe Natali se non sbaglio nello spogliatoio ah nello spogliatoio credo nello spogliatoio con tanto di casa pitturata con tanto di casa pitturata verde e bianco rosso dopo la bianco e questo gruppo bellissimo dove c'è al centro Lorella Cuccarini con il vestito rosso e gli occhiali da sole e c'è anche la famiglia Scavolini si vede il vino sul lato cioè la cosa bella io ho fatto prima di intraprendere questo mestiere delle trasferte anche col club Tonucci e devo dire che ho apprezzato l'umiltà della famiglia Scavolini che veniva in trasferta con i tifosi con la gluppa cioè non è che all'autogrill andavano al ristorante ma portavano anche loro i panini mangiavano i tifosi integrati nella maniera più assoluta con tutto il pulma con tutte le altre persone bello una cosa molto bella si facevano questo bene allora invece adesso vorrei passare un attimo a parlare di Totè un momento se lo merita perché insomma se dovesse aver finito davvero la stagione qua sarebbe un peccato so che nel pubblico c'è anche chi lo critica o chi non lo sopporta per i suoi atteggiamenti però se andiamo a vedere le statistiche quest'anno Leonardo ha fatto un campionato super ha avuto qualche passaggio vuoto come tanti ma insomma se vogliamo criticare lui allora degli altri cosa dobbiamo dire ecco un serio problema al gomito la sua stagione probabilmente finita che giudizio dai del suo campionato Maurizio e secondo te è stato un errore lasciare partire Mokevicius visto che adesso ci ritroviamo senza centri ma allora parlando innanzitutto di Totè bisogna dire che come tutti i giocatori ha diritto anche lui di avere alti e bassi durante la stagione e poi parliamo parliamo dei suoi pregi e dei suoi difetti lui ha un grosso pregio che intanto è quello di aver messo su un fisico competitivo come dicevamo prima e diciamo nella metà campo offensiva è migliorato clamorosamente è un giocatore che non ha paura di prendere contatti è un giocatore che ha messo un buonissimo tiro dalla media è un giocatore che caratterialmente a volte ha lasciato a desiderare ma io devo dire anche una cosa vedere altri giocatori non solo quest'anno diciamo che rispetto al passato i giocatori si sono un po' uniformati a questo non solo da noi cioè il fatto di non essere sfacciati e di di non accettare e di accettare delle provocazioni dall'avversario lui avere un giocatore come lui che non accetta queste provocazioni è un pochino con la faccia tosta a muso duro certamente a volte è esagerato però io sinceramente a me fa piacere ho preso anch'io ho preso non ha paura non ha paura si fa valere si fa valere subito il campo è una specie come dire di difesa del territorio della maglia io sinceramente poi chiaramente i suoi difetti possono essere quei difensivi quelli di però voglio dire bisogna come dicevo pesare bene i pregi e difetti e non si può dire che che un giocatore ha dato secondo me ha dato ha dato Mokjevicius Mokjevicius per me Mokjevicius per me doveva essere utilizzato meglio chiaramente però il cambio di Mokjevicio poi abbiamo preso Foreman cioè noi in questo momento ci serveva un giocatore che faceva canestro in quel momento ci serveva un giocatore che faceva canestro quindi per me per te il sacrificio valsa la pena adesso col seno di poi no però no oddio non lo so abbiamo corso un rischio abbiamo corso un rischio però ci serviva per me ci serveva un giocatore che facesse canestro ci serveva un giocatore che facesse canestro anche perché Mokjevicius non veniva utilizzato non era più ho ben visto che non era più nel giocatore veniva utilizzato anche poco anche molto poco veniva utilizzato poco proprio per questo motivo penso sì sì poi avere la sfera di stallo fai fatica è lo stesso lo stesso Foreman è durato una partita è il finale con la Virtus esatto è anche questo sinceramente beh la spiegazione può essere questa cioè che pensate ma penso che comunque il singolo viene viene poi condizionato dal gruppo questo è uno sport di squadra e capita che il singolo esalta il gruppo ma spesso e volentieri è il gruppo che svilisce il singolo sì sì sei depresso secondo te ma non è il fatto di essere depresso il fatto di non riuscire comunque di dover giocare con quattro compagni in campo in una situazione generale mediocre poco prima l'ho andato a vedere era andato a Urbino non c'entra che sarebbe battuta però voglio dire non vorrei che forse dopo la visita a Urbino purtroppo avevamo già giocato a Trento però voglio dire per carità ma magari andassi a vedere i musei invece che fare altre cose è stata una cosa divertente simpatica io credo che lui in realtà fisicamente anche lui ha qualche limite altrimenti se lui avesse potuto fare delle partite come ha fatto con la Virtus sempre nella sua carriera non sarebbe qua no? no però ha perso anche il tiro tiri aperti ha sbagliato ha sbagliato più del tiro da tre che alla fine può mettere qualsiasi giocatore con i piedi per terra a me piacciono più altre cose che lui fa e che quelli o li hai o non li hai quell'entrata che ha fatto quando ha nascosto la palla bella, bellissima cioè quelli in un belice non li ha fatte l'ultima partita non ha ancora sempre entrato non ha più nemmeno tentato diciamo che è venuta meno però anche la personalità a parte appunto Brescia è clamorosa la partita con Brescia e il finale con la Virtus a livello anche proprio di personalità un'altra partita è mancato speriamo che a Treviso Grand Expo Trentello no perché appunto essendo un giocatore di striscia no potrebbe potrebbe capitare forse io penso che dovrebbe rimanere in campo con più continuità e non fare avanti e indietro dalla panchina perché è un giocatore che per accendersi ha bisogno di un po' di tempo anche di sbagliare tra l'altro Sacchetti è un allenatore che ha sempre detto che non rimprovera i suoi giocatori se sbagliano l'importante è che non rinunci no lui non mi sembra uno che rinuncia le scelte degli allenatori sono difficili a commentare perché noi parliamo sempre di cambi fatti o non fatti di schemi di lavagnette ma come ci spieghiamo i nove minuti di sconti con la Virtus che ha cambiato ha cambiato emotivamente la partita eppure eppure è giocatore su nove minuti sì sì sono in spieghiera difficile Marco allora adesso diamo spazio anche ai commenti di Facebook che sono tanti ringraziamo gli appassionati telespettatori ma soprattutto le telespettatrici Claudio Ortolani chiede perché dopo le dichiarazioni di Meo Sacchetti domenica quando ha insinuato cose gravi come la mancanza di gioco con la voglia di fare falli la società accetta questa apatia e non fa nulla questo però devono rispondere loro quindi poi Sergio Signoretti che ci riallaccia alla trasferta di Treviso salvo che facciano il 60% da tre punti non è possibile competere per la vittoria perché non si è preso un Kane che è andato in A2 a Roma quindi alla società interessa la 1 o no sinceramente con la partita decisiva con Mazzola Pivot si perde di credibilità Tyler Kane per chi non sa ieri sera ero a vedere il Loreto quando c'è arrivata la notizia tutti sui telefonini che aveva firmato per la Luis Roma Luis Roma onestamente siamo rimasti un po' basiti tutti dubbi legittimi che abbiamo un po' tutti l'anno scorso ha avuto un anno in calo ma grasso che cola però Tyler Kane ragazzi certo certo se non significa che poi poi non so se aveva il visto perché bisogna anche dire questo no? cioè che se tu ne avevi bisogno per sabato forse non avrebbe potuto giocare perché se in questo momento eri in America o comunque era fuori dall'Italia non aveva il visto in mano comunque sono tutte situazioni che si vengono a creare in ambito purtroppo di mediocrità e ti ritrovi con l'acqua alla gola e non so ah sì arrivi lì devi prendere quello che sei quello che è rimasto sei stati sfortunati con Delia come dicevamo sentiamo un'altra domanda o un altro commento? Riccardo Cecchini è un altro appassionato che ci segue sempre è un bravo tennista lo sappiamo lo conosciamo bene vede un prospetto in 30 minuti come si è fatto a prendere tanti bidoni negli ultimi 10 anni e poi fa una proposta tre squadre in serie B a Pesaro unitevi senza pregiudizi e fate una serie che punti in alto quest'anno vi dovete rassegnare la 2 vi aspetta a braccia aperte vabbè siamo un po' perché vi di dove sei tu? non lo so Lara fa questo commento poi una domanda a Maurizio se anche il prossimo anno farà i commenti del lunedì per i senza gioco questo lo deve chiedere a me poi la pancia del tifoso sì li farò adesso sentiamo Marco si è contento io sono molto contento soprattutto del successo che sta avendo devo migliorare un pochetto devo dire che parlare davanti a un telefonino non è che sia proprio io non mi riguardo non mi piaccio tanto ecco no però il successo che stai avendo il seguito i like i follower che stai portando sicuramente ci inducono a promuoverti e a proporti anche per i prossimi anni trascorsi è merito solo dei trascorsi una promozione in diretta in pratica esatto anche se anche se ritrocederemo sarà confermato certo che trovare spunti dopo una stagione come questa tutte le settimane è veramente difficile perché hai rischi di dire sempre le stesse cose infatti perché la squadra ha fatto sempre gli stessi errori questo lo diceva lo diceva Buscaglia ma Sacchetti lo sta ripetendo adesso in effetti è vero lui stesso comunque ha detto di essere rimasto sorpreso perché dopo la prima con la Virtus io ricordo la sua contentenza di dire finalmente ho visto che la squadra allora ce l'ha questa cosa dentro adesso che me l'avete fatta vedere questa cosa che avete dentro dovete tirarla fuori sempre e la partita dopo già non c'era più bisogna dire un'altra cosa che sono i responsabili di tutto questo di solito e tutto l'apparato dirigenziale e tecnico che ti muove questo è vero io però allora non ho mai fatto atleta professionista quindi forse posso dire una castroneria ma tu non le devi avere dentro le motivazioni ma non ti basta fare una vita bellissima come essere un atleta giocare a pallacanestro essere pagato per giocare a pallacanestro giocare davanti a 6.000 persone ti devono anche caricare le altre parti intorno a te sono importanti se siamo una nuova figura è mental coach non lo so purtroppo ci vuole quello che agisce sulla testa ti dovrebbe già bastare l'orgoglio di mettere quella maglia davanti a un pubblico allora ci sono ci sono situazioni perché a volte scusa l'allenatore si prende la responsabilità e gli dice si vede questa settimana non ho saputo caricarli ma non c'è bisogno ma deve essere carico da solo è nato carico se vuoi giocare però 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 insomma l'allenatore tutto quello che ruota intorno a loro condiziona parecchio però ci sono gli altri che sono le altre squadre che sono più motivate di te è lì che salta e tu devi essere più motivato di loro quindi tu sei motivato un po' ma gli altri sono più motivati di te ti sovrastano non lo so velocemente un esempio di un livello diverso a me viene in mente la prima cosa così che mi viene in mente Siena che era una squadra fortissima chiunque arrivasse lì entrava in un meccanismo pareva che fosse lì da da sempre evidentemente non è solamente quello che tu hai dentro o il tuo livello è perché tutto l'apparato ti spinge uno stile secondo me ti rimaneva il blocco però c'era sempre il blocco quasi sempre cambiavano poche giocatori ricordi chiunque arrivasse ma restone ruc ecco per dirne una sì sì sono d'accordo questo sicuramente però ecco non condivido che un giocatore arriva a scarico una partita importante certo perché magari la società o l'annatore non l'hanno caricata io non l'accetto no 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 questo no questo assolutamente poi se uno non ce la fa perché fisicamente è inferiore o perché tecnicamente è inferiore dico che è una componente questo sì andiamo a vederci i nostri avversari ragazzi perché siamo già teoricamente dovremo chiudere tra due minuti ma non chiuderemo perché dai stasera andiamo un pochettino altri dieci minuti ce li prendiamo questa è la Nutribullet che vince a Pistoia sinceramente sabato sera tutti abbiamo sofferto davanti al televisore o ai telefonini insomma seguendo questa cosa perché ci rendevamo conto che il risultato stava portando per noi una di quelle cose che non volevamo cioè andare in campo con Treviso che aveva già vinto la sua partita ecco Treviso ha vinto ragazzi quattro delle ultime cinque di cui tre consecutive un avversario per noi in questo momento impossibile in trasferta oppure no Lorenzo no per me di impossibile non c'è nulla certo adesso senza pivot avremo un grosso problema sotto canestro perché Ford e Mazzola dovranno fare gli straordinari loro tra l'altro incontreremo Camara che è soprattutto il pivot loro titolare americano Policap molto atletico è due metri e tre in realtà quindi non è tanto più alto di Mazzola e Ford anzi mi sa che è uguale però salta atletico e poi incontreremo soprattutto il nostro folletto ex folletto play Justin Robinson è Treviso in piena in forma in questo momento in forma sono stati bravi tocca dare l'altro a Treviso che sono stati bravi che non hanno cambiato l'allenatore nel momento di crisi non hanno cambiato il loro top player che era Harrison che l'hanno tenuto in un momento che non faceva mai canestro e hanno azzeccato i due nuovi acquisti e noi adesso andiamo lì loro tutti i presupposti tutti i pronostici direbbero che Treviso è favorita però sinceramente direi di sì però io no no beh no è chiaro io qui siamo su un altro discorso noi pensiamo di vincere quindi se scommetti scommetti su Pesaro vabbè per vincere qualcosa di buono sì solo per quello forza no che scommesse parliamo ah sì sì vabbè Treviso anche quando era 08 con noi non c'entrava nulla poi chiaramente i risultati possono arrivare ma certo no ma io io che che ero sulla ringhiera col megafono sono sempre stato abituato fino all'ultimo secondo a lottare in quell'ambito quindi non sto non sto dicendo che non credo a qualcosa fino all'ultimo ci dobbiamo provare spero sempre di vedere una partita quanto meno come carica come quella contro la Virtus chiaro che andiamo a Treviso che è una squadra più forte perché noi siamo i maggiori indizzati in questo momento all'altra sessone perché in questo momento anche Brindisi anche Brindisi ma in questo momento tra le 16 bisogna dire le cose come stanno siamo più scarsi sì no no volevo dire anche Brindisi ha dato un segno di reazione è andata a vincere a scappare e avrà in casa Treviso tra un paio sì c'è ancora uno scontro diretto ci saranno molti scontri diretti comunque alla fine volevo dire tra l'altro a un certo punto è stato contestato tantissimo ecco qui abbiamo la corsa a salvezza ecco se volete ispirarvi sì la partita di di domenica Treviso contro di noi invece Brindisi che ospita Sassari potrebbe vincere quindi se io mi immagino lo scenario più brutto cioè noi sconfitti e Brindisi vincente ultimi da soli insomma speriamo di no il problema è che lo scenario più brutto ce l'abbiamo ora nel senso io qualche giorno fa sabato sabato mattina pensavo a una sconfitta di Treviso a Pistoia poi eventualmente a una nostra vittoria che sapevo potesse essere molto difficile però c'è da dire anche che speravo che Cremona perdesse con Venezia perché noi potevamo fare la corsa anche su Cremona che veniva da un periodo abbastanza brutto non era più la Cremona pimpante di qualche settimana fa però ho tirato fuori una partita a livelli tutti i risultati sono andati storti quando qualcuno dice ma non bisogna guardare i risultati di altre squadre mi scaccia purtroppo dobbiamo guardare anche quelli cosa vuoi fare purtroppo sì ma questa è una favola tutti guardano i risultati ma non guardare devi vincere le partite certo perché Milano non guarda cosa fa allora altre domande e poi dopo andiamo a gustarci il finale con l'album dei ricordi per caricarci un pochino purtroppo c'è qualche considerazione allora diciamo che l'umore il mood come si dice adesso dei tifosi è sotto i tacchi lo so noi non possiamo però nemmeno celebrare il funerale prima di essere esatto c'è invece chi lo sta celebrando addirittura lo sport marchigiano quest'anno se sommiamo calcio e basket vedi Vissancona Recanatese VL rischia una debacle camorosa con retrocessioni in serie a proposito dacci il risultato della Vissan 1-2 stiamo perdendo e poi Cristiano chiede ai nostri ospiti su quale giocatore italiano puntare in A2 un solo nome degli attuali per favore forza VL io dico la mia ah guarda già so cosa dici Maretto Maretto? sì io appunto mi piacerebbe avere tambone come sarei sempre tambone eh lo so devi già essere realisti eh lo so però dovrebbe rispondere pensando a chi ci piacerebbe chi pensi che possa restare che possa restare un italiano che può restare in A2 che ti piace che mi piace diciamo che in A2 sarebbe molto buono avere Visconti o magari qualcuno che rimarrebbe in A2 con noi penso nessuno è quello il problema io credo che Cincia potrebbe fare la chioccia penso che Cincia potrebbe fare la chioccia di questo gruppo magari non è titolare forse o comunque avere un alter ego giovane spero il mio è stato un lapsus lui sicuramente a giugno fa 38 anni penso che finirà la carriera qui potrebbe finire la carriera qui sarebbe un giusto pensiero per lui credo no io dicevo Maretto perché siccome nelle due occasioni in cui gli è stata la possibilità non ha sfigurato penso che in A2 la sua la possa dire insomma e poi comunque gli italiani adesso stiamo parlando poi ancora in A2 non ci siamo però siccome gli italiani bisogna averne 8 ci sta che uno possa essere anche un ragazzo scusa Betta c'è assolutamente Adriano che chiede di poter salutare Maurizio ciao Adriano bene io invece voglio fare un saluto adesso purtroppo in questo momento con serietà perché voglio salutare anche se in questo momento sicuramente non ci sente ma magari ci ascolta la famiglia voglio salutare Davide Perugini e fargli i migliori in bocca al lupo è un ragazzo che ha fatto parte dell'inferno bianco rosso che ha la sua edicola in piazzale Matteotti forse molti di voi lo conoscono in questo momento è in ospedale sta combattendo una dura battaglia quindi forza Davide vogliamo rivederti al Palasport perché ci manca la tua simpatia e anche la tua competenza devo dire la verità un ragazzo che ha cominciato anche a scrivere c'è la cava e speriamo di riaverlo qua a discutere della sua amata VL speriamo che le cose vadano per il meglio ok allora adesso divertiamoci un attimo con l'album dei ricordi perché le immagini che vi proponiamo sono bellissime e stiamo parlando appunto dello spareggio salvezza di Milano perché è stata la vittoria più clamorosa in chiave salvezza questo è il tiro guardate che elevazione un tiro di Barker che batte sul ferro gira gira qui migliaia di cuori in decoronare erano quasi distrutte qui la lotta per il rimbalzo e al rallentatore ovviamente questi ultimi secondi di gioco tutti per terra a combattere e poi alla fine la Scaolini si salva e questo vedete il salto dei giocatori dovrebbe essere con il 5 credo Benevelli non mi ricordo no Benevelli era il 9 comunque non si vede bene perché le immagini sono spocate però insomma vedete la gioia e l'esultanza di tutti anche dei ragazzi di Pesaro Mauro Procaccini si riconosce Beppe Ponzoni Roberto Terenzi e via allora era il primo marzo del 1980 quando un serpentone di 77 Pullman partì da Viale Trieste salutato da tutta la città erano gli eroi eccoli vedete qui che tornarono vincitori dal secondo spareggio salvezza consecutivo quello precedente era stato vinto nel 79 a Bologna contro la Canon Venezia poi vediamo chi avrà indovinato al palazzone di San Siro poi crollato sotto la neve più di 4.000 pesaresi che non dimenticheranno mai quella serata spinsero la Scaolini alla vittoria contro la Superga Mestre che era stata riagganciata nell'ultima giornata vincendo in casa loro quella epica partita di 44 anni fa terminò 71-70 con un tiro libero decisivo segnato da Roberto Terenzi che abbiamo ospitato proprio nei nostri studi alla 14esima puntata e gli errori finali di Marietta prima e di Barker poi sul rimbalzo offensivo che abbiamo visto quell'ultimo pallone girò sul ferro per un tempo infinito che fermò il respiro in gola al popolo bianco-rosso e poi esplose la gioia guardate il muro di gente che era salita a San Siro da quel giorno e fino al 1998 ultima retrocessione partita sul campo la Scavolini visse solo giorni di gloria auguriamoci che non siano finiti speriamo sì speriamo tutti lo speriamo tutti bene allora Marco intanto se vuoi dare la soluzione del contest la soluzione del contest è stata indovinata da Andrea che è stato il più rapido a indovinare il risultato finì 86 a 71 per la Scavolini lo spareggio ricordiamo a Bologna contro la Canon nel 1979 quello prima altri tempi altri tempi stranieri sono andato a vedere perché Jim Thomas e Tom Scheffler ma oggi ho scoperto una cosa curiosa che hai scritto tu nel Club Tonucci adesso te lo voglio chiedere di Thomas che il nome Jim non era il suo nome reale lì c'è tutta una storia dietro incredibile non la ricordo neanche tanto bene ma lui sembra che se qualcuno dice che sia morto in guerra se non mi sbaglio non lo so c'è una leggenda dietro quel giocatore incredibile praticamente molti dicono che è vero se tu vai a cercare su internet non trovi niente mentre di Tom Scheffler trovi tutto la sua carriera di Jim Thomas non c'è niente perché in realtà sembra che quello non fosse il suo vero nome e che per poter venire in Italia giocare a pallacanestro e si mise un nome falso un altro nome non è stato l'unico magari anche in altri ambiti sportivi se qualcuno sa qualcosa se qualcuno sa qualcosa di Jim Thomas ce lo dica perché ci siamo incuriositi un sacco a questo proposito comunque Betta i tuoi ospiti troppo giovani per aver vissuto quel periodo io me li ricordo come fosse adesso nelle telecronache radiocronache scusate di Michele Zavagnini che sicuramente anche tu Betta avrai sentito e quel pallone che girava sulla lunetta veramente ci ha fatto prendere l'infarto la radiocronaca era di Giorgio Giommi perché mi hanno mandato un audio Giommi che ho riascoltato e lo salutiamo se c'è all'assorto che poi ha fatto lo speaker al palazzo per tantissimi anni sì eravamo una volta una figura più che storica la radio aveva un potere mediatico incredibile non c'era internet e quindi se tu volevi ascoltare cosa aveva fatto la scavolini dovevi ascoltare la radio ho invecchiato Michele Zavagnini prima ancora però Franco Bertini mi racconta sempre questa è una cosa bellissima non so se la sapete non essendoci nemmeno la possibilità di cioè la radio c'era però probabilmente non si facevano le radiocronache l'unico modo per sapere se la scavolini aveva vinto quando era in trasferta era passare in corso l'11 settembre e vedere se sul balcone della sede avevano esposto la bandiera bianco rossa quando si vinceva esponevano la bandiera per cui Franco dice molta gente si affacciava addirittura dalla piazza la piazza del popolo per guardare si vedeva in fondo se c'era la bandiera avevano vinto fuori grano queste cose sono sono epiche sono le cose che muovono ancora di più la passione rispetto a tutto ciò che puoi trovare subito comunque Marco ti volevo dire che io all'epoca non c'ero ma ho cominciato tra anni dopo non tanto dopo nell'82 quindi fin ragazzo come si diceva questa cosa è carina il tuo primo anno al palazzo un pochino prima però diciamo nell'82 ho cominciato a voi dieci anni 81-82 o 82-83 81-82 quindi con Kiccia qualche partita con Kiccia l'ho vista e poi ho cominciato a seguire praticamente l'anno della prima finale Scudetto sì 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 Lorenzo uguale gli anni sono quelli meno male anch'io preso dalla passione anche i viscerali di mio padre che sono arrivato lì piano piano dieci anni in circa dieci anni già entravo dentro in qualche modo nell'altro perché poi era difficile entrare perché gli abbonamenti non c'erano erano tutti io avevo trovato anche più avanti le scamottaggi anche di fare l'arbitro tipo la canestra tutto di tutto fatto per entrare dentro il palazzo dello sport di vela dei partigiani tu hai capito perché gli arbitri il livello degli arbitri è il nostro perché lui lo faceva per andare il mio livello io posso dire che il livello di arbitro era quello che era effettivamente però riuscivo a dare la partita della scavolini della loro scavolini beh all'hunger c'era anche chi stava dalla mattina sotto le tribune dietro i tabelloni pubblicitari nascosti abbiamo saputo che Marco ha nascosto la gente di notte io sono intanto quei tifosi avversari spesso anche ti dico la verità entravo quei tifosi avversari a volte poi si entrava da lì all'hunger c'è delle aneddote delle storie incredibili sì sì io ci sono entrata l'anno di Giopese quindi un paio d'anni prima di voi e anche lì si lottava per la salvezza quindi poi lo scarto che ha cambiato appunto la storia della VL è stato proprio lo spareggio salvezza di Milano quando da lì in poi si è deciso basta soffrire io Giopese l'ho vissuto nei racconti degli amici un po' più grandi sì sì quello sì oltre che poi ovviamente dopo certo però tutta questa storia che ci appartiene non deve finire quindi a uno o a due che sia perché purtroppo bisogna anche guardare in faccia la realtà io sono convinta che non so se avremo 6.000 spettatori a vedere la serie 2 ma nell'anno del fallimento perché lo ricordo l'ultima retrocessione sul campo non è nel 2005 perché in 2005 è stato un fallimento ma la squadra aveva giocato nell'Eurolega fino a un mese prima l'ultimo sfiorando le final l'ultima retrocessione datata a 1997-98 quella stagione disgraziata in cui cambiamo talmente tanti giocatori che purtroppo assomiglia buona tu dico solo questo buona tu e Trovillon buona tu l'abbiamo acquistato e è stato l'anno prima il miglior giocatore ma lui non era male mi ricordo Trovillon non funzionò quel gruppo anche un giocatore dall'NB e Todd Day che poi fece un disastro quindi quell'anno veramente tu forse che lo ha us su quell'anno mamma mia una squadra brutta di colore giocatori assurdi una squadra brutta per cui purtroppo un po' mi ha ricordato questa stagione nel senso che tanti cambiamenti per cui la squadra alla fine non si è cementata mai come questa forse si ricorda un po' quella stagione i cambiamenti di livello con un rosto di livello magari non finisce però ricorda molto comunque ci pensavo anche io purtroppo perché uno poi va indietro negli anni e pensavo proprio a quella stagione perché tanti cambi così ricordano quella stagione lì purtroppo 22 e 34 ragazzi abbiamo sforato sforatissimo quindi io vi ringrazio tanto lo sapevo che questa puntata sarebbe stata animata grazie per la vostra disponibilità grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito a chi ha mandato le domande scusate se non le abbiamo lette tutte ma è difficile lo vedete perché poi se si vuole rispondere a delle domande con un minimo ci vuole un po' di tempo grazie a Marco Cadeddu per essere stato con noi questa sera da Andrea Sabatini in regia noi ci vediamo giovedì prossimo speriamo davvero tanto di potervi raccontare cose belle arrivederci hai visto quante novità al Conad di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conad di Montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio per l'evoluzione per l'evoluzione Grazie a tutti.